Bagnoli riapre, riapre con il suo magnifico auditorium, con una rassegna di cinema e di musica. Ci saranno due concerti legati al cinema, il primo dell'orchestra Scarlatti che ci farà sentire le musiche dei film di Totò e si chiuderà con un concerto del maestro Carlo Morelli con le principali colonne solore cinematografiche di tutti i tempi. Al centro una rassegna cinematografica che parla di Napoli, su Napoli, una Napoli da vedere, una Napoli da vivere, come è Bagnoli, come è l'auditorium, perché il senso politico di questa operazione, che il sindaco Manfredi ha voluto fortemente, è quello di recuperare alla città delle zone come Bagnoli che per lungo tempo hanno sofferto, per lungo tempo sono state sottratte alla fruizione dei bagnolesi, dei cittadini ma dei turisti. Oltre lo schermo, suoni e visioni del cinema a Napoli e la rassegna promossa dal Comune di Napoli che sarà ospitata nell'auditorium della Porta del Parco a Bagnoli da venerdì 21 aprile a lunedì 1 maggio. In programma proiezioni, concerti e incontri per tracciare il profilo cinematografico della città, con otto film girati a Napoli che raccontano il ruolo centrale della città nell'industria audiovisiva nazionale. Si tratta anche di una tappa significativa del processo di valorizzazione della struttura dell'area dell'Exit Alcider. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento a posti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. E poi tutta una serie di film che richiamano la rappresentazione di Napoli e la creatività di Napoli. Lo stato di salute del comparto è ottimo perché Napoli è sempre al centro delle produzioni dell'audiovisivo. L'obiettivo però del sindaco è quello di far sì che sia al centro non solo come grande e straordinaria location, ma anche da un punto di vista proprio del sistema industriale dell'audiovisivo e quindi anche dei momenti di formazione che stiamo portando avanti con l'ufficio cinema del Comune di Napoli, anche con i pitch che con l'ufficio cinema del Comune di Napoli stiamo portando avanti, facciamo formazione che significa creare nuove professionalità affinché il gap fra le location e la produzione venga in qualche modo colmato.